Ciao amici d'Italia Talk Games, buongiorno. Video inaspettato ma doveroso. Stamattina, per chi ha visto il video di questa mattina, vi dicevo ma sui football 2024 c'è Can con la maglia della Germania, c'è Roberto Carlos con quella del Brasile, quella di Nesta nel pool da 150 giocatori con il boost, non c'è Nesta e con una maglia fake e probabilmente è legato al fatto che proprio questa mattina mi è arrivato il comunicato stampo ufficiale di Electronic Arts che annuncia il rinnovo della licenza per l'utilizzo non esclusivo della nazionale italiana in eSport FC24, non esclusivo. Però abbiamo lo stesso visto che in eFootball Nesta non ha più la maglia, quindi non esclusivo perché magari l'Italia sarà anche in FIFA nel nuovo videogioco della FIFA. Vabbè, non lo so, io posso dirvi queste tre cose. La prima, in eFootball Nesta è con quella maglia fake, io gioco ancora con l'Italia, ho le maglie vecchie e ce l'ho ancora. Andiamo a capire. Quindi queste sono le cose ufficiali. Vi vado a leggere il comunicato. Electronic Arts e la federazione italiana Gioco Calcio FGC hanno annunciato oggi il rinnovo pluriannale della licenza per l'utilizzo non esclusivo della nazionale italiana in eSport FC24. L'accordo offrirà ai tifosi di tutto il mondo l'opportunità di giocare con la nazionale italiana, incluse le sue iconiche divise, il logo e il nome in eSport FC24 e in quelli a venire. La conferma della licenza dimostra l'impegno di eSport FC, il nuovo marco di Electronic Arts, a offrire un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente per tutti gli appassionati del gioco più bello del mondo. eSports ha definito il calcio a livello interattivo per 30 anni e ha costruito una comunità calcistica globale di oltre 150 milioni di persone su più pattaforme. Una comunità che eSport FC continuerà a far crescere insieme a partner come FGC che condividono l'obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di tifoso. Essendo costruita secondo i principi di inclusività e innovazione, i fan continueranno a vivere un'autenticità senza pari con l'accesso a più di 19 mila giocatori, con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici globali che consentiranno un'ulteriore espansione in nuove aree del calcio femminile e del calcio base. Ci rimane un po' il mistero. In iFootball 2024 ci sono le maglie dell'Italia, le precedenti ma non queste, Nesta è con la maglia non ufficiale, la licenza di eSport FC è data dalla FGC in modo non esclusivo, c'entra iFootball o c'entra FIFA? E questo ragazzi lo scopriremo solo vivendo. Certo è che la maglia di Nesta non è ufficiale e quindi qualcosa è cambiato di certo. Staremo a vedere, non appena ci saranno ulteriori news ve le fornirò, vi do appuntamento oggi pomeriggio subito dopo pranzo 14, 14 e 30 circa per un video da non perdere. Ciao!